Cari amici, eccoci all'appuntamento di quest'anno con le Olimpiadi di Filosofia. Le Olimpiadi di Filosofia sono arrivate nel 2015 alla ventitresima edizione. La finale quest'anno, la finale internazionale, quest'anno si terrà in Estonia a Tartu. E qui, questo modello del corso di preparazione che il nostro istituto ha intenzione di realizzare nel corso delle prossime settimane, vedete lo stem, il logotipo creato per le Olimpiadi di Filosofia di Tartu 2015. Che cosa sono le Olimpiadi di Filosofia? Molto brevemente. Si tratta di una gara, di un concorso internazionale che viene realizzato sotto il patrocinio della International Philosophy Olympiad gestito per l'Italia dalla Società Filosofica Italiana. Ed è un terreno di crescita molto importante perché spinge gli studenti a produrre degli elaborati di tipo argomentativo nei quali devono, come dire, mostrare di essere capaci di pensare criticamente, di problematizzare ciò che dicono e le questioni che vengono loro poste, di essere capaci di formulare delle ipotesi di soluzione e soprattutto di argomentare in maniera valida ed efficace le proprie posizioni. Il concorso è articolato su due canali. C'è il canale nazionale che sceglie chi partecipa alle prove svolgendo il proprio elaborato solo in lingua italiana e c'è il canale internazionale che è destinato a chi sceglie invece di partecipare alle prove svolgendo già dalla fase della selezione d'istituto il proprio elaborato scritto in una delle quattro lingue ammesse dalla società filosofica cioè il francese, l'inglese, il tedesco, lo spagnolo a scelta. Abbiamo più o meno identificato le tre fasi. Abbiamo delle date purtroppo ultimative che vengono poste dalla società filosofica e cercheremo di regolarci su queste. La selezione d'istituto dovrebbe svolgersi il 7 di febbraio del 2015 quindi tra una ventina di giorni circa la selezione regionale entro il 28 di febbraio del 2015 quest'anno si terrà a Sassari perché patrocina la finale regionale la gestisce la società filosofica italiana a sezione di Sassari l'università e la fase nazionale si dovrebbe svolgere entro il 31 marzo a Roma dalla quale poi dovrebbe uscire dovrebbe uscire i due finalisti che parteciperanno alla finale mondiale che come vi dicevo prima si tiene a Tartu la capitale dell'Estonia dal 14 al 18 maggio del 2015 sono quattro giorni pieni perché la prova si tiene il 17 ma il 14, il 15, il 16 i partecipanti si vengono preparati alla prova con un corso di preparazione specifico in lingua inglese che come dire dovrebbe dar loro più strumenti per partecipare bene alla finale noi intendiamo aiutare gli studenti che vogliono partecipare alle Olimpiadi di Filosofia realizzando un breve videocorso così come abbiamo fatto del resto dell'anno scorso organizzato in due grandi tronconi avremo l'area A che si occupa di spiegare bene quali sono le caratteristiche morfologiche e strutturali che deve possedere un testo argomentativo e un'area B che è costituita da temi da autori e da testi filosofici sia moderni che contemporanei abbiamo scelto la sezione moderna e contemporanea perché possono partecipare alle Olimpiadi soltanto gli studenti del quarto e del quinto anno del corso liceale quindi era inutile almeno così dal punto di vista operativo soffermarsi troppo sul pensiero antico quali finalità c'è il corso? incrementare le capacità di esercitare la riflessione critica sulle diverse forme del sapere consolidare l'attitudine che tutti abbiamo a problematizzare le conoscenze cioè a non accettarle in maniera critica riconoscendone la loro storicità e la loro discutibilità e arricchire le capacità di esposizione di espressione di controllo del proprio discorso soprattutto usando in maniera consapevole le strategie argomentative più efficaci e più corrette e le giuste procedure logiche quindi ci porremo come obiettivi migliorare il lessico e l'uso delle categorie della tradizione filosofica analizzare testi di autori che abbiano un rilievo filosofico anche di diversa tipologia confrontare e mettere nel loro contesto le diverse tipologie dei filosofi delle risposte che i filosofi hanno dato ad uno stesso problema approfondire l'analisi di una lettura di un testo filosofico operando tutta una serie di operazioni che sono indispensabili per la comprensione approfondita del testo e poi l'obiettivo ovviamente top è produrre degli elaborati scritti di carattere argomentativo che hanno la forma di un tema tradizionale su temi che verranno scelti dalla commissione di istituto e poi dalla commissione regionale da quella nazionale eccetera velocemente sui contenuti del corso per l'area ci soffermeremo su che cosa è un argomento su come si analizza la struttura argomentativa di un testo filosofico su quali validità e quali forme deve avere un'argomentazione come si costruisce un'argomentazione valida e come strutturare un testo argomentativo che oltre che valido sia anche efficace è allegata anche una breve bibliografia io ovviamente insieme al filmato posterò anche sul sito sul gruppo facebook che abbiamo creato per le sue olimpiadi anche la bibliografia compresa in questo programma poi avremo un modulo di estetica con un tema anche abbastanza interessante i disaccordieti estetici perché è difficile intendersi sulle cause e le caratteristiche della bellezza avremo poi un modulo di metafisica la natura e gli sviluppi della metafisica occidentale dopo il XVI secolo un modulo molto ricco ampio articolato che va dalle origini del pensiero moderno attraverso Bruno Cartesi Pascal arriva fino ad un pensatore italiano che è ancora vivo e operante che è Gianni Vattimo e anche qui avete la bibliografia e poi abbiamo un bel modulo di filosofia politica sullo stato moderno e contemporaneo nella riflessione filosofica occidentale e anche qui l'escursus temporale è grande e fondamentale si va da Machiavelli Jean Baudin Thomas More Hobbes, Locke, Rousseau, Hegel, Marx Anne Arendt pensatrice oggi incredibilmente attuale Herbert Marcuse e Michel Foucault che è un pensatore francese importantissimo che ha filosofato fino agli anni 80 del secolo del XX secolo anche qui avete la bibliografia noi speriamo che parteciperete in tanti alcuni si sono già iscritti ci interessa che la gente ci segua ci piacerebbe che ogni filmato venisse una volta postato venisse commentato da coloro che lo seguono eventualmente anche per sottolineare nel canale YouTube dedicato per sottolineare le cose che possono essere migliorate i concetti che sono rimasti in dubbi non perfettamente spiegati le richieste di approfondimento su alcune tematiche che poi noi insegnanti recepiremo e cercheremo di soddisfare a nome di Patrizia De Rosa che è la mia stimatissima collega e mio personale di tutto il nostro dipartimento di filosofia del nostro istituto vi auguro buon lavoro e speriamo di avervi in tanti compagni di strada grazie a tutti grazie a tutti